ciao a tutti ragazzi bentornati in un nuovo video oggi andiamo ad affrontare un argomento che solitamente è molto spinoso mentre aspettiamo la finale di UEFA Champions League e torniamo a concentrarci sulla nostra Juve e parliamo del centrocampo della Juve lo so lo so il centrocampo della Juve ragazzi è sempre un po' problematico però in questa stagione in questo specifico calcio mercato sembrano voler andare in una direzione diversa rispetto a quello degli altri anni e io sono contento quindi la trattativa legata a Paul Pogba e l'accessione di alcuni profili che non sono più idonei ai quelli che sono diventati gli standard della Juventus cercando di andare a guardare il tutto da un punto di vista differente rispetto a quello che abbiamo visto da troppi anni purtroppo perché il centrocampo della Juve da troppi anni non è all'altezza quando sento parlare di centrocampisti vado sempre un po' cauto perché va bene la trattativa legata Paul Pogba è quindi un giocatore ma non dimentichiamoci che in questo momento abbiamo sei centrocampisti all'interno della Rosa della Juventus Locatelli, McKennie, Zaccaria, Rabiot, Artur e Miretti ok ci siamo dato per assodato che Locatelli e Zaccaria saranno la Rosa della Juve anche l'anno prossimo dato che sono stati colpi di mercato effettuati nell'ultimo anno nell'ultima stagione e che Miretti ne abbiamo parlato l'altro giorno sembra destinato appunto a rimanere la Juve su consiglio su volontà anche di Massimiliano Allegri rimangono fuori tre giocatori che possono essere ceduti e sono McKennie, Artur e appunto Rabiot che sono giocatori che potrebbero lasciare la Juve in questa sessione ma non dimentichiamoci che la Juve oltre a questi ne ha altri quattro e quindi Ramsey, Fagioli, Rovella e Ranocchia sono tutti le proprietà Juve, tutti i giocatori che orbitano intorno alla prima squadra. Ramsey sembra che verrà allontanato dalla Juve recessione contrattuale, ne ha parlato anche oggi Romeo Agresti. Di Fagioli andiamo a parlare tra poco, ha fatto una stagione in via la Cremonese e ha fatto venire in Serie A, è stato uno degli artefici della promozione della Cremonese. Rovella è stato al Genoa quest'anno, non è riuscito a salvarlo o a impedire la retrocessione del Genoa. Ranocchia l'anno scorso in Serie B è retrocesso ma l'anno prossimo dovrebbe giocare in Serie A e appunto Pogba. Se mettiamo in insieme tutti questi nomi vengono fuori non 10, bensì 11 centrocampisti, un'intera squadra di calcio titolare, 11 ragazzi, 11 profili, 11 calciatori. Alcuni con stipendi alti come Rabiot, come Artur e stiamo cercando di capire come allontanarli dalla Juve perché in questo momento la Juve vuole altro, un altro come Pogba che potrebbe andare a prendere uno stipendio davvero alto e gli altri, cioè stiamo cercando di capire come potranno andare a riempire la squadra. Qualcuno continua a dirmi, Milinkovic, Savic, Giorginio, ora con la trattativa legata a Pogba molto vicino alla conclusione o comunque con il giocatore che potrebbe davvero effettivamente diventare un calciatore della Juve, io faccio un po' fatica dato che sarebbero 11 calciatori ad aggiungerci anche nomi come Milinkovic, Savic, Giorginio, aggiungo Paredes, aggiungo Torreira che sono comunque nomi chiacchierati, io dico magari anche uno come Milinkovic, Savic, uno come Giorginio oltre a tutti quelli che vi ho citato, magari Pogba e Savic per intenderci, magari Pogba e Giorginio. Onestamente ci credo poco con la conferma di Miretti, allora sto cercando di immaginarmi il centrocampo titolare, più che titolare, la rosa di centrocampisti che sarà presente all'interno della Juventus l'anno prossimo e ne ho parlato anche su Instagram, ho messo anche qua lo screen su YouTube dicendo che il mio carro potrebbe vedere Locatelli, McKennie, Zaccaria, Pogba, Miretti e Fagioli e ho visto che tanti di voi sono entusiasti di questa cosa, addirittura Fagioli ha messo like su Instagram a questo post e mi ha risposto in privato con un cuore, un'altra faccina, quindi segno che comunque Fagioli ci terrebbe a essere a Juve anche all'anno prossimo. Tra l'altro vi leggo le parole di Fagioli che ha rilasciato a Sport Week e dice sono un gioventino fin da piccolo, tra l'altro lui ha tenuto per tutta la durata del campionato in corso la sua fotoprofilo su Instagram con la maglia della Juve e non quella con la maglia della Cremonese, sarebbe un sogno indossare quella maglia ma prima devo capire che intenzioni hanno con me. Se hanno in mente un percorso da fare insieme sono disposto a condividerlo, i giovani devono giocare, se in una grande o in una piccola non so, in Italia le cose stanno cambiando e anche Mancini è disposto a convocarci in nazionale, se sono forti i giovani devo giocare, io mi sento pronto per la Serie A. E qualcuno l'ha vista come una sorta di ultimatum o di ricatto di Fagioli alla Juventus, ma io credo che sia anche giusto perché comunque Fagioli nel 2023 andrà in scadenza di contratto e vuole capire che cosa fare, se rinnovare con la Juventus perché andrà a fare un percorso appunto come ha detto condivisibile con la Juve oppure se dovrà cercare altre strade o cercare altre destinazioni, altre squadre. E allora qualcuno continuava a dirmi, sì però in realtà il centrocampo che hai esposto è un centrocampo che non ci dà garanzie per il futuro e anzi rischiamo poi di vedere gli altri festeggiare perché non c'è, anzi non è proprio un centrocampo. Ragazzi, intendiamoci, non è che se la Juventus fa un centrocampo con uno o due giovani al suo interno nei 5-6 che saranno la Juventus allora non sarà competitiva. Cioè togliamoci dalla testa questo discorso secondo il quale i giovani non danno qualcosa alla squadra. È ovvio che se mi dici ho già sei centrocampisti, cinque centrocampisti come avevamo in Rosa quest'anno e ne aggiungo un altro, come è stato con Miretti, Miretti ha avuto la possibilità di giocare soltanto a fine anno, quando ormai la Juventus aveva archiviato il discorso legato alla qualificazione in Champions. Miretti ha dimostrato che può starci. Se invece devo ragionare di tenermi giocatori appunto come Artur, Rabiot, Ramsey stesso che abbiamo avuto inizio anno, il Rosa, che occupano uno spazio salerale elevato e che in campo non vanno a darmi quel qualcosa in più che dovrebbero darmi, visto i costi di mantenimento dei giocatori, allora io preferisco tutta la vita rischiare e inserire almeno uno o se non due davvero come potrebbe essere profili giovani all'interno della Juve e vedere come esplodono, ma non significa che saranno titolari, cioè il centrocampo che vi ho esposto ha quattro perni che sono Locatelli, McKennie, Zaccaria e Pogba, che sono giocatori che hanno esperienza, hanno già giocato tante volte. Miretti e Fagioli, che l'anno prossimo, nella prossima stagione andranno a compiere 20 e 22 anni, hanno sette presenze in Serie A in due, sei di Miretti, una di Fagioli, una presenza in due in Champions in Europa, una di Miretti a tempo scaduto, hanno zero presenze nazionali, quindi è ovvio, sono tutti da fare, da formare, non sappiamo come reagiranno. Lo stesso Rovella, che è sempre nostro l'anno prossimo andrà a compiere 22 anni, ha 43 presenze nazionali, zero in Europa e zero in Champions, ma 43, se usate, presenze in Serie A, in Serie A, e quindi è ovvio che anche Rovella può essere un profilo interessante, ma la Juve deve fare delle scelte. Non penso che la Juve possa averli tutti e tre in rosa, così come non penso che la Juve possa fare Pogba e Milinkovic-Savic. Poi magari mi sbaglio, e magari il prossimo anno il centrocampo della Juve ha i tre ragazzi, Pogba, Milinkovic-Savic, Locatelli e Zaccaria. Però sette centrocampisti mi sembrano un po' tanti. Vediamo, e quando mi si dice che comunque sarebbe un centrocampo troppo giovane e un esperto, va bene questi due ragazzi che ad oggi non hanno esperienza, però ragazzi, cerchiamo di fare un ragionamento. Locatelli e McKennie l'anno prossimo andranno a fare 25 anni, sono due classi a 98. Zaccaria l'anno prossimo ne farà 27, Pogba l'anno prossimo ne farà 30. Locatelli ha 175 presenze in Serie A, 16 in Europa e 21 in nazionale. McKennie ha 54 presenze da Serie A Bundesliga, 13 in Europa e 31 in nazionale. Zaccaria ha 184 presenze tra Bundesliga e campionato svizzero prima divisione, 22 in Europa e 40 in nazionale. Pogba 277 partite tra A e Premier League, 90 in Europa e 91 in nazionale maggiore. Locatelli è campione d'Europa con l'Italia, Pogba è stato campione del mondo, è campione del mondo in carica con la Francia. McKennie e Zaccaria sono due giocatori importantissimi per Stati Uniti e Svizzera. Insomma, senza considerare che io adesso do per scontata la partenza di Rabiot per dire che è un giocatore che è titolare nella Francia, non è campione del mondo, ma comunque è titolare. Quindi stiamo parlando comunque di altri centrocampisti oltre a questi due, che la loro storia, il loro background, il loro palmarès ce l'hanno già pieno e che non è che sono proprio i primi che passano, sono giocatori importanti che hanno già dimostrato e continueranno a dimostrare. Quindi è inutile continuare a pensare che un giocatore a 25 anni non abbia esperienza sia ancora troppo giovane. Ripeto, Locatelli ha 175 presenze in Serie A, poiché sia la prima stagione alla Juve, è un altro discorso. Ma le presenze in Serie A le ha fatte, è cresciuto e non pretendo che Miretti, Fagioli e Rovella alla prima esperienza della Juventus siano titolari. Però inizio a pensare, perché inizio a pensare, confermo, confermo questo trend. Io mi ricordo l'anno di Sarri in cui si parlava di Tonali, come è possibile arrivo, io dicevo benvenga Tonali, ma non massacriamolo al primo errore, perché un conto è giocare nel Brescia, un anno in Serie A nel Brescia, un conto è giocare nella Juventus e quindi dovesse arrivare Tonali, aspettiamolo, facciamogli fare una stagione per ambientarsi e poi vediamo. In realtà poi Tonali è andato al Milan, prima stagione etichettato da tutti come Brocco, seconda stagione Tonali ha fatto vincere lo scudetto al Milan, dopo tre stagioni in Serie A, perché c'è stata pazienza, c'è stata evoluzione e questo dobbiamo fare noi. Dato che abbiamo la volontà di prendere alcuni giocatori, due o tre giocatori di Maria, Pogba, già, Perisic non più perché andrà al Tottenham, già formati, già pronti, di esperienza, oggi si parla addirittura di Muriel come vice Vlaovic, ma benvengano questi profili esperti, giocatori non più giovani, però al loro fianco la Juventus deve farci la rosa con questi altri giocatori, che sono già suoi, sono scommesse, addirittura Miretti e Pagioli è la fortuna che siano CTP e che quindi in lista Champions non vanno a portarti via posto senza dover spendere 38 milioni per Ken che era già tuo. Queste sono le cose che deve fare la Juventus oggi. Pensare di avere 12, 13, 14, esageriamo 15 giocatori titolari pronti e gli altri 8, 9 devono essere ragazzi, già tuoi, giovani, senza esperienza, che butti all'interno della prima squadra e che siano dei veri e propri backup per i titolari e che man mano iniziano a fare questo percorso all'interno della Juventus che li porterà a essere i titolari del domani della Juve, quando questi 3, 4, 5 profili esperti che vai a prendere sul mercato non saranno più in grado di dare quello che hanno dato e nel frattempo tu hai già pronto questi giocatori perché banalmente, destino Udoge, no? Se non lo prendi quest'anno è troppo facile poi l'anno prossimo dire hai visto Udoge quanto è forte? Già quest'anno ti ha fatto vedere che è forte e allora te lo vai a prendere perché poi se no che cosa succede? Uguale a Vlaovic, l'anno scorso si parlava di Vlaovic a 40-50 milioni, l'abbiamo dovuto comprare a 70 a gennaio per evitare che potesse andare ancora più sulla valutazione a questo giugno. Udoge se non lo prendi oggi a 15 più bonus, 20 quelli che sono che si sta mormorando, l'anno prossimo ti fa un'altra stagione così, sai cosa costa? 40 e allora devi quei 20 milioni di scommessa li paghi se ti ha dimostrato qualcosa a quel giocatore li paghi, a maggior ragione se ti ha dimostrato qualcosa a questi giocatori che sono già tuoi, Miretti, Fagioli, Rovella, Ranocchia, credici senza doverli scambiare, inserire sempre in trattative uno magari ci sta che venga sacrificato all'interno del calcio mercato ma gli altri due allora me li tieni lì, uno in prima squadra se non due in prima squadra o uno comunque in prestito da qualche parte dove possa giocare, l'importante che la Juventus non si privi del talento, la Juventus questo talento lo deve coltivare all'interno di una prima squadra che in prima fila avrà dei profili esperti come piacciono a Massimiliano Allegri in attesa di profili idonei ad essere da Juve a cui va dato tempo che devono essere attesi, aspettati, sostenuti, questo è quello che ci serve perché sennò poi continuiamo ad andare avanti così, continuiamo a strapagare dei profili che non danno niente, continuiamo ad avere la nazionale che non va ai mondiali perché ci sono sempre quelli allora se ci va bene così ragazzi diciamolo, semplicemente diciamolo e continuiamo a vedere che invece magari tanti altri club che hanno la fortuna e anche il coraggio se vogliamo di fare delle rose come ho in mente che farà la Juventus davvero nell'anno prossimo buttano dentro, quando le cose vanno bene è più facile buttarli dentro e allora benvenga una Juventus con l'istant team pronto per vincere subito lo scudetto ma benvenga allo stesso tempo una Juventus di seconde linee formate da ragazzi già della Juventus senza avere paura di aspettarli e senza avere paura che possano sbagliare, ve lo dico subito, sbaglieranno ma è giusto così, sono giovani e addirittura ribadisco a 22 anni uno come Fagioli che ha una sola presenza in serie A a 21 anni un po' mi dispiace sinceramente quindi cerchiamo di metterli all'interno del motore e cerchiamo di fargli fare qualche presenza in più